E poi come ti chiami e come stai dove passerai la notte la passerai con me che mentre le parlavo tu distrattamente eri già entrato a fare parte del mio stomaco e quattro passi e due bicchieri l'allegria che bello ritrovarsi e quella voglia innocente di abbracciarsi è stato forte come una bufera ma è durata come una candela accesa in chiesa ho pregato che tornessi ma non sei tornato più per dove abito lo so ma per un po' non mi cercare più Mi piace spesso immaginare di poter scrivere in quel modo che hai detto tu come un Gino Paoli con tre parole a cui io provo un mondo meraviglioso un mondo per pochi io nel mio mi piace raccontare delle storie per immagini molto leggere nitide politiche riescono ad arrivare abbastanza in fretta e spero che questa cosa sia successa anche stasera e spero che questa cosa sia successa anche stasera